Musica E signori, eccoci qua al Campidoglio Oh cazzo, però le scale me le ricordavo un pochino meno sgravate E abbiamo la prima missione per Copernico Missione secondaria che si unisce a quelli di Cristina Nella sequenza ripristinata che poi faremo Andiamo da Copernico, signori Chi è quello? Viene dalla Prussia So che studia il Vaticano Ma le sue parole paiono alquanto inadatte a quel luogo Qualcuno vi dirà di accontentarvi della teoria celeste di Tolomeo Con le sue contorsioni matematiche di sfere danzanti intorno alla Terra Ma perché ricorrere a formule tanto complesse Se non per nascondere una miriade di contraddizioni? Una logica errata va messa in discussione Perciò viviamo per porci domande Questo discorso non piace ad alcune persone Il signore vuole che tutti gli studiosi siano morti entrosera Ma Difendiamo sto ragazzo Non subire danni durante l'imboscata Praticamente non subire danni mai E questa sarà una delle sincronizzazioni totali più difficili di sempre Non subire danni contro sti qua Via Ok buono Siamo a un quarto Ok Vai da lui Veloce Prima che Ah gli dà un altro colpo Ok Meno male c'è scritto non subire danni E non non far subire danni Siamo composti Dal corazzato 46 secondi Ok fuori il bluto Questa è una buonissima cosa Fuori tu con l'arma lunga adesso Fuori l'arciere Fuori un'altra arciere Via 12 secondi 3 2 1 Uccidi le guardie rimaste Fuori Fuori Sì 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 100% Ho detto la sincronizzazione totale più difficile della storia questa Intanto si è fatta addirittura notte E ragazzi fatta la missione per Copernico che c'è Non fai anche l'altra Certo che la fai Ed eccolo qui Chi siete voi che difendete una causa non vostra Tuo padre Ezzio auditore da Firenze Ezio Qui mi chiamano Nicolò Copernico Ho udito il vostro nome alla corte dei Borgia Ma ora ho la prova che esistete per davvero Il Vaticano vi accoglie Purtuttavia le sue guardie vi attaccano Mi credete uno di loro? A dire il vero non avreste torto Fino a ieri Ero un Templare Giustamente fino a ieri I Templari volevano che tacessi sui risultati dei miei esperimenti E questo non posso farlo I Borgia danno la caccia a voi e ai vostri amici Ai miei colleghi E mi sfugge il motivo di tanto accanimento Trovate Copernico Sarà meglio discuterne più tardi Seguitemi Fuori dall'orbita Raggiungi una zona sicura in meno di 3 minuti e 20 secoli Vabbè Ok Precisissimo Ma tipo prendessi il cavallo o no? Va bene Perderò un po' di vita Va bene così Ma com'è sotto attacco? Ci penso io Via Forza Nicolò Forza Gravi notizie da oriente I turfi hanno attraversato I turfi hanno attraversato il centro del tutto negro Finalmente qualcuno ha rimesso questo Aspetta Si fa così Divertite a fare il gradasso con gli altri Figlio di un cane Andiamo Eh mi sa che sti 3 minuti e 20 secondi passano Anche alla svelta direi Dobbiamo fare di tutto per arrivarci prima Bravo corri Eccoci 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 Attenzione forse ci si fa Andiamo Mi sa che non è finita qui sapete E gli altri studiosi? Non sono certo di potermi fidare Di cosa si può essere certi? L'acquisizione della conoscenza è un'impresa piena di rischi È più facile restare nell'ignoranza Che rischiare per la vera conoscenza D'accordo Illuminatemi Portatela agli studiosi Devono sapere della minaccia alla loro incolumità È un mix Tra Luca Romero Un paio di miei amici E non so Comunque Sincronizzazione totale Vieni a me proprio